Gli esperti non hanno dubbi, l'inflazione ha cominciato il suo rimbalzo e presto tornerà positiva. L'Eurostat ha infatti confermato la contrazione annuale dei prezzi al consumo dello 0,1% a marzo. Ancora in territorio negativo, certo, ma il dato arriva dopo il meno 0,6 di gennaio e il meno 0,3 di febbraio. Il segno più potrebbe ricomparire già ad aprile, anche se, spiegano gli analisti, il ritorno verso il target del 2% della Banca Centrale Europea è tutt'altra storia. Ancora più incoraggianti nel mese di lancio del piano di allentamento monetario sono le cifre mensili, più 1,1%.